Oggi registro uno dei miei video preferiti in assoluto da guardare e da fare, e cioè il video dei prodotti finiti del mese, o meglio del periodo, perché si tratta di due mesi, e ho un sacco di roba da farvi vedere. Ciao, io sono Laura e come vi ho detto nella preview, oggi facciamo il video dei finiti. Ho un bel po' di roba che ho accumulato negli ultimi due mesi, da quando ho cominciato a usare un po' meno quantità di prodotto di quella che usavo di solito, finisco un po' meno cose, e quindi riesco a dilatare un po' di più questo video dei finiti, o comunque ad accumulare un po' più cose di cui parlarvi. Il downside di questa cosa, il lato negativo, è che ho un sacco di roba di cui parlarvi, quindi ho paura che ci metterò una vita, per cui comincio subito. Vado un po' a caso, salterò tra prodotti per i capelli, prodotti per il viso, prodotti per il corpo, perché così vado, pesco e vedo quello che viene fuori. La prima cosa che viene fuori è questa, fiori di Bach, crema per il corpo, massaggio rilassante, non mi è piaciuta. Questa l'avevo comprata in realtà per regalarla, poi la persona a cui la volevo regalare, in realtà le ho regalato un'altra cosa, e quindi me la sono tenuta io. L'ho usata tutta, cioè completamente finita, però se questa dovrebbe essere una cosa, i fiori di Bach sono quelle preparazioni, cioè si basano diciamo sull'aromaterapia anche, se non capisco male, quindi dovrebbe essere una cosa il cui odore in qualche modo fa cose, per esempio rilassare. A me l'odore di questa cosa non piaceva, quindi era tutt'altro che rilassante. È un odore un pochino erbaceo, di un fiorito un po' aspro, con note un po' più erbacee, non mi è piaciuta per niente. La crema in sé era abbastanza corposa, però non mi ha dato comunque una sensazione bella di coccola quando la spalmavo. Non si assorbiva particolarmente rapidamente, non faceva nemmeno troppa scia bianca per essere una crema corpo, però perché ovviamente essendo una crema per il massaggio immagino che sia stata studiata proprio per non assorbirsi troppo immediatamente, perché se serve per massaggiare, ora io i massaggi non li faccio, questa me la spalmavo da sola e quindi non c'era quel lato positivo della faccenda, però comunque questa io non la ricomprerei, non mi ha fatto impazzire, non mi piace tanto. Vediamo dove posso appoggiare i prodotti finiti. Invece mi è piaciuta molto questo qui, che è di Fitorelax, non l'ho fatto vedere mi sa, è Fitorelax che ha alcuni prodotti che mi piacciono, ma questo non mi è piaciuto. Invece mi è piaciuto molto, dicevo, questo prodotto è Chica per Yalon VT Cosmetics, il VT Riddle Shot 100. Allora io ho capito che questo prodotto è andato, intanto c'è Blu che è venuto a salutarvi, è andato abbastanza virale come prodotto, a me questo è stato inviato, o meglio, l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Stylevana, che mi ha gentilmente mandato lo shop, e non gli avevo dato due lire, o meglio, non lo conoscevo, mi aveva incuriosito il fatto che lo chiama Chica Riddle Shot, quindi un prodotto alla centella asiatica, Chica, è che dovrebbe in qualche modo avere più effetti, tra cui quello di appiattire la pelle, dice Riddle Shot Formula Refines Rough Skin, quindi rifinisce la pelle un po' rovinata, e le cellule morte, per far la pelle naturalmente liscia, mi è piaciuto tantissimo, allora è un sierino, l'applicatore, intanto, ve lo faccio pure vedere che ne è uscita una goccina, ecco questo sierino molto leggero, super facilmente, si assorbe super facilmente, mi è piaciuto tanto, segnalo che dà un leggero pizzicore quando lo mettete, e ha un effetto calmante lenitivo, su di me ce l'ho avuto, ma anche appunto leggermente esfoliante, è un'esfoliazione che però va bene anche quotidiana, cioè può essere anche quotidiana, è usata anche, io l'ho usata anche in combo con il retinolo o con altri esfolianti più aggressivi, come per esempio anche con il siero al glicolico che sto usando una volta a settimana in questo periodo, e devo dire che non ha dato nessun problema sulla mia pelle, anzi, la mia pelle, nonostante forse voi non lo direste, ma ha un aspetto diciamo migliore del solito, sia in termini di compattezza che in termini di proprio di sfoghi che ha sulla pelle, e di effetto liscio effettivamente, non voglio ovviamente dare tutto il merito a questo prodotto, però secondo me in combo con gli altri prodotti e anche con qualcos'altro che vi farò vedere dopo, secondo me ha avuto un'ottima riuscita. Ho finito anche questo profumo Tokyo Shibuya di Karl Lagerfeld, questa è la linea di Karl Lagerfeld dedicata a dei luoghi nel mondo, in particolare questo è dedicato a Tokyo Shibuya, che non so se avete presente, è un quartiere di Tokyo, diciamo è quello con quel grandissimo incrocio che si vede spesso nelle immagini di Tokyo, in cui centinaia di persone attraverso una strada contemporaneamente, e Shibuya è uno di quei quartieri un po' più alla moda, anche vitali, vivi di Tokyo, e un po' più nuovi anche, cioè non è la Tokyo diciamo quella storica, l'avevo comprato per ricordarmi di Tokyo, in realtà a me questo profumo non ricorda moltissimo Tokyo, devo dire che quell'eccentricità che ho visto a Shibuya in realtà un po' ce la ritrovo qui, perché questo è un profumo che è un acquatico, un acquatico fiorito con una nota piccante all'inizio di la Barbaro, è un profumo particolare, mi deve piacere, vi devono piacere i profumi non particolarmente dolci, però l'ho finito con grande piacere, cioè è un profumo che io ho indossato volentieri, e questa era una mini size, una taglia piccola da 60 ml, non è una mini size, è una taglia di vendita da 60 ml, che devo dire secondo me per questo tipo di profumo è adattissima, blu, blu, sì sto qui, sto qui, bella, non ci può credere che oggi sto a casa e posso dedicarle del tempo, comunque è molto carino, molto fresco, per l'estate era, diciamo sarebbe stato perfetto, e infatti l'ho sfruttato spesso in estate, in primavera in estate, però sono anche contenta di averlo finito, voglio dare lo spazio ai profumi, spazio per sentirmeli addosso senza paura di finirli, e questo insomma ho fatto proprio così, me lo sono goduto fino all'ultima goccia, un altro prodotto che mi è piaciuto molto, e che ho comprato, questa è almeno la terza confezione che compro, è il siero potentilla al gallium e lentisco, questo è un siero da mettere prima del contorno occhi, se avete un problema di idratazione del contorno occhi, come ho io, e anche se avete le occhiaie e un po' di borse sotto gli occhi, in realtà io questo l'ho usato sempre la sera, per dare un busto di idratazione, più che per risolvere questo problema, io le borse non le ho molto, le occhiaie un pochino, soprattutto quando dormo poco, cosa che con noi bambini piccoli succede abbastanza spesso, però devo dire che mi è piaciuto in particolare usato prima della crema contorno occhi, quando avevo bisogno di un busto di idratazione, anche in questo caso vi segnalo che nei primissimi giorni di applicazione, mi dava un leggero pizzicorino, ma niente di fastidioso, però insomma lo segnalo perché magari a qualcuno può dare fastidio, oppure può pensare a delle reazioni allergiche, che in realtà io l'ho usato, l'ho finito, e tutte le volte che l'ho usato ho avuto questo effetto, che i primi giorni mi faceva questo leggero pizzicore, e poi la pelle si abituava e non me l'ho addato più fino alla fine. Un altro prodotto che ho finito e non mi è dispiaciuto, è il Retinol Intense di Sun by Me, questo è uno dei pochi in realtà prodotti a retinolo che esistono in cosmetica coreana, il retinolo non è molto usato nella cosmetica coreana, io credo perché la cosmetica coreana si basa più su un'idea di prevenzione, che non di attivo, molto attivo, che va a vedere effetti dopo che sono uscite le rughe, che sono uscite le imperfezioni, quindi non ce ne sono moltissimi di prodotti di cosmetica coreana che vanno bene per... che hanno il retinolo dentro, questo ce l'ha e devo dire che mi è piaciuto. Mi è dispiaciuto soltanto che fosse una taglia così piccola, questo anche era nel calendario dell'avvento di Stylevana, insieme al contornocchi che pure mi è piaciuto molto. La cosa carina di questo è che non solo ha il retinolo, ma ha anche il retinal che è un derivato del retinolo leggermente più potente e il bacuchiol che si dice essere l'alternativa naturale e priva di possibilità di irritazioni che potrebbero dare il retinolo che è comunque un attivo molto potente. In realtà gli studi non dimostrano ancora questa efficacia pari a quella del retinolo, però è sicuramente un ingrediente interessante e la combinazione di questi tre mi è piaciuta molto. Il retinolo lo proverò, ho comprato un altro prodotto che lo contiene perché mi incuriosisce, adesso che ho dato il via al retinolo, proverò anche cose un pochino più forti visto che ho visto che la mia pelle lo tollera, vi segnalo che il retinolo io lo uso esclusivamente di sera, esclusivamente col metodo sandwich, ovvero metto prima una cosa idratante e dopo una cosa idratante, insomma lo faccio appunto a panino tra due cose, tra due prodotti idratanti di cui uno era esattamente questo peraltro, e che lo uso quattro volte a settimana, non di più. Sono partita lentamente, sono partita da una volta a settimana, quando ho visto che la mia pelle lo tollerava sono passata a due, poi quando era tre, eccetera eccetera, fino a che adesso a quattro mi sento a posto. Non credo che passerò a tutte le sere, anche perché mi piace in qualche modo dedicare alcune sere alla idratazione pura, e una volta a settimana uso invece dei prodotti esfolianti tipo il glicolico, che la mia pelle pure sempre tollera molto bene, e che gli fanno bene perché insomma sono un pochino più, hanno un'azione un po' diversa da quella del retinolo, e mi sembra che sia insomma un buon combo efficace. Ottimo, 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 già la seconda volta che lo ricompro, e lo ricomprerò anche quest'estate, il gel detergente di Cerave, all'acido salicilico, questo è un detergente in gel, che io usavo come seconda fase della doppia detersione, questo in estate per me va bene anche tutte le sere, non ha alcun problema, il salicilico è un acido, ma non è un acido fotosensibilizzante, quindi si può usare anche d'estate, e nei momenti in cui la pelle ha bisogno di una leggera esfoliazione in più, oppure appunto ha bisogno di una cura in più, in questo senso un po' di azione purificante in più, per me quello lì è perfetto, perché non è per niente aggressivo sulla pelle, e va benissimo, va benissimo sia per le zone più secche, oddio io non ho zone secchissime tra nel contorno occhi, ma insomma più normali, e anche ovviamente per la zona T, che invece è una, io ho un pochino più oleosa, e poi ho finito finalmente questo, se voi avete visto i miei video di inventario, forse lo saprete, perché credo di averlo detto, sarà almeno due anni che è nel mio inventario questo affare, è un'acqua, una spray idratante, sì, non esce praticamente più, di Joë, allora, questo io, se fosse stato normale, lo avrei usato come tonico, a tutto viso, come rinfrescante, in realtà questo a me ha sempre dato problemi agli occhi, quando lo usavo spruzzato direttamente sul viso, perché dopo un paio di giorni che lo usavo, mi dava sempre un po' di fastidio agli occhi, e quindi non l'ho più potuto usare come spray su tutto il viso, e quindi non sapevo più come utilizzarlo, l'ho finito, in tanto tanto tempo, usandolo come prodotto, che per bagnare le spugnette, quando non ho voglia di andare in bagno a bagnarle, usavo questo qui per bagnarle, in questa maniera l'ho trovato, sì, abbastanza buono, però non lo ricomprerò mai, cioè non lo ricomprerò, perché appunto a me dava fastidio agli occhi, nonostante qui ci è scritto, vabbè, dice pelli sensibili, vediamo se indicava effettivamente di non usarlo nella zona del contorno occhi, non mi pare che ci sia scritto, no, non dice niente sul contorno occhi, quindi io immagino, cioè ho sempre immaginato di poterlo usare appunto come uno spray rinfrescante, come si fa con tutti gli spray rinfrescanti, ebbene, no, non è adatto a questo utilizzo, una maschera per capelli che mi è piaciuta tantissimo, mi dispiace perché non riesco a far uscire l'ultimo pochino che c'è qui dentro, da questa confezione, forse la dovrei tagliare, potrei farlo in effetti, è la maschera di Ecoslay, questa, Banana Cream Deep Conditioner, allora questa è una maschera idratante per capelli ricci o comunque per capelli disidratati, stupenda, è veramente molto idratante, veramente molto, non pesante, cioè è molto idratante senza essere pesante, io ne uso una bella quantità, quantità, insomma una bella noce, diciamo, per da spalmare su tutti i capelli, subito dopo lo shampoo, non serve un tempo di applicazione chissà quanto lungo, ma va benissimo anche metterla sotto la doccia, utilizzarla, così insomma nel tempo che vi lavate il resto del corpo, mi piace davvero tanto, l'unico problema, se così si può dire, di questa è che va tenuta in frigorifero quando non la usate, e quindi vi dovete ricordare prima di farvi la doccia di andarla a prendere, di prenderne il quantitativo che vi serve, non so perché abbia questa cosa, non so quale sia l'ingrediente al suo interno che gli dà questo problema, questo fatto, forse qualche estratto che non regge tanto la temperatura ambiente, però ho fatto stacchi, mi è piaciuto tanto, l'ho finita abbastanza rapidamente, perché appunto l'ho usata spesso, questa io la uso quando faccio, non quando faccio il co-wash che adesso vedrete, ma quando faccio uno shampoo normale, bella, veramente molto molto bella, tanto bella che ne ho comprata un'altra che adesso sta in frigorifero, che non vi faccio vedere, perché appunto ho questo problema di doverla tenere sempre un po' refrigerata, bella, veramente bella, la trovate come quasi tutti i prodotti capelli che vi faccio vedere su Carly Selection, e a proposito di prodotti che trovate su Carly Selection per capelli ricci, il co-wash di Curl Smith, bellissimo, ne ho anche di questo, ne ho comprate già in uso un'altra boccetta, e conto di comprarne la prossima volta, purtroppo su Carly Selection non ce l'hanno, adesso lo dovrò dire alla proprietaria, che è mycurlymethoditalia su Instagram, e su Facebook credo anche, non hanno il boccettone più grande, di questa c'è anche il boccione formato famiglia, che tra l'altro se non sbaglio ha anche l'erogatore quello grande, cioè quello sì, quello grande, quello che si pigia, che esce invece di essere così, che lo dovete un po' versare, ed è un po' scomodo questo qui, perché il prodotto è abbastanza denso, e nella fase finale è difficile farlo uscire bene, cioè lo dovete sbattere, farlo scendere bene, e comunque è un prodotto stupendo, come faccio il co-wash, ne prendo una piccola quantità, lo massaggio per zone, quindi che ne so, prendo una piccola quantità e faccio le tempi, una piccola quantità e faccio sopra, una piccola quantità e faccio dietro, poi lo massaggio bene, in modo da distribuirlo bene sui capelli, ben bagnati, e dopodiché lo risciacquo via, anche in questo caso molto bene, devo dire che rispetto ad altri co-wash che ho provato, allora, uno non appesantisce i capelli, appunto, se non ne lasciate, se ne usate, devo dire lo uso in maniera abbondante, però lo dovete lavare via bene, e non mi dà problemi di pesantezza ai capelli, e però nello stesso tempo li lava bene, quindi è un prodotto che io uso con grande piacere, soprattutto da quando mi alleno, e quindi lavo i capelli più spesso, io di solito, diciamo, prima di allenarmi, quando non mi allenavo, almeno 5-6 giorni duravano tranquillamente i capelli, ovviamente quando vi allenate questa cosa non è possibile, per questo ho cercato dei metodi di lavaggio un pochino più delicati, e questo è perfetto, quest'estate io penso che lo userò, per esempio, molto più spesso, cioè con molto piacere, per esempio al mare, quando uno si lava più spesso i capelli, questo tipo di prodotto, secondo me è perfetto, e infatti, ripeto, dopo aver finito questa confezione, che è sempre di questa dimensione, che comunque non è piccola, perché sono 355 ml, e comprerò quella grande, perché quest'estate lo voglio usare ancora di più, e quella grande non mi ricordo se è a mezzo litro, o se è addirittura un litro, non me lo ricordo, ma il confatto sta che la voglio prendere. Finito, e mi è piaciuto tantissimo, anche se ci ho messo un po' a finirlo, è il Face Scrub Citrus Blend di Up Circle, Allora, questo è un brand che è interessante, perché ha una filosofia dietro di riuso, per cui loro utilizzano gli scarti del caffè, per fare uno scrub, lo scrub, che ovviamente vengono lavati, trattati, in modo che non è che vi lascia, però è uno scrub veramente ottimo, questo qui, Citrus Blend, non mi ricordo se è quello per le pelli più misto, grasse, non mi ricordo, lui dice gommage visage, non è un gommage, è uno scrub, ed è uno scrub pure abbastanza potente, tant'è vero che io non lo facevo tutte le volte, io di solito faccio lo scrub viso una volta, era uno scrub viso, l'ho detto sì, visage, non lo faccio tutte le volte che faccio, tutte le settimane, io almeno una volta a settimana, quando faccio la doccia, faccio lo scrub, però questo non lo potevo usare ogni settimana, perché è consistente, cioè questa granulosità del caffè era forte, per cui lo facevo magari una volta al mese, così, e così i 100 ml che sono, mi sono durati un bel poio, direi almeno un paio d'anni, non è cosa da farsi, perché il pao è di 6 mesi, però devo dire che reggeva bene, ha sempre mantenuto un odore stuporso, si sentiva sia il caffè, che appunto questa nota un po' limonosa, veramente mi è piaciuto tantissimo, e potrei ricomprarlo, è carina questa cosa anche della, come dire, del riuso, del riciclo, dell'economia circolare, come la chiamano loro, mi piace questa idea dell'utilizzare gli scarti, allora parliamo adesso invece di palsamo struccante, di apiarium, apiarium ho avuto modo di provare i loro prodotti, nell'ultimi anno e mezzo, due anni, ne ho provati diversi, e devo dire che mi sono trovata bene con diversi di questi, diciamo che ci sono, o li amo, o li odio di fatto, non c'è una grossa via di mezzo, questo prodotto non mi ha fatto impazzire, perché è un balsamo struccante, mi piaceva il fatto, il rapporto quantità prezzo, che diciamo per i burri struccanti, purtroppo i burri struccanti sono molto costosi, quindi è difficile trovarne di prezzi accessibili, questo mi aveva intrigato, perché il prezzo era più o meno accessibile, rapportato alla quantità, che è un flacone un pochino più grande di quelli che di solito si trovano, però a me appanna gli occhi, strucca bene però sui miei occhi, i miei occhi me li appanna, e quindi non mi piaceva utilizzarlo, per cui non l'ho amato, e non lo ricomprerò, invece mi è piaciuto molto il burro struccante detergente di Collistar, di questo aveva parlato anche Dreddixit su Instagram e sul suo blog, è un burro struccante, vedete ha un colorino un pochino azzurrino, e questo invece mi è piaciuto molto, vediamo se c'è qualcosa che riconosco, che gli dà questo colore azzurrino, forse la viola, semplicemente, pensavo che potesse avere dei derivati del, che so, tipo bisabololo, questa roba qui della camomilla, e invece non mi pare che ci sia, fatto stare funziona molto bene, e questo non mi appannava gli occhi, struccava bene anche il make-up un pochino più strong, e costa di più, questo è un 100 ml, e costa molto di più, purtroppo, eppure i struccanti che funzionano bene, costano, costano troppo. Passiamo ora a una protezione solare, non si vede più che cos'è, questa era la protezione solare SPF 50, in essence di Misha, e non male, nel senso che si, si spalma abbastanza bene, un po' troppo liquida, per i miei gusti, io preferisco leggermente più consistenti, anche perché le, le protezioni solari coreane, anche quando sono consistenti, in realtà si spalmano molto bene, quindi non mi dispiacciono, cioè la stessa maniera, diciamo, di quelle più liquide, questa, se avete presente, ha un po' la consistenza, di quelle, Isdin, con questo stesso applicatore, applicatore di questo tipo qua, o anche ce n'è una di L'Oreal, che ha questo tipo di applicatore, la consistenza un po' è quella, si spalma molto bene, mi rimaneva leggermente appiccicosa, però comunque, un buon formato, soprattutto perché è così sottile, e questa confezione, è comoda da portare nella borsa, tanto è vero che come vedete, io l'ho fatto, e infatti è tutta distrutta, però vabbè, diciamo, non la mia preferita, delle protezioni solari coreane, però non posso dire, che sia una cattiva protezione solare, ho finito, e mi è piaciuto molto, il Retinal Complex di Naturium, il Retinal Complex Serum, anche in questo caso, abbiamo insieme, Bacu Kjol e Retinolo, devo dire, è stato abbastanza efficace, un retinolo che non mi ha dato problemi, e ha mantenuto la mia pelle, nelle stesse condizioni, diciamo, in queste buone condizioni, tra virgolette, che ho avuto, che ho recentemente, una consistenza piuttosto leggera, che non mi ha dispiaciuto, vediamo se riesco, oh, sì, è proprio un gel, un siero in gel, è molto carino, devo dire, come è prodotto, allora, questo, questo è un, balsamo massaggio, di fatto, io non lo so, secondo me c'è solo, c'è solo, come si chiama, paraffina dentro, no, vabbè, non lo so, però, vediamo, no, in realtà, paradossalmente, la paraffina non c'è, sono tutte cose abbastanza, naturali, sì, infatti, ecco, è certificato bio, basta un massaggio, dicevo, di, di Mustela, però, la consistenza è proprio quella lì, della, della paraffina, della, sì, di quei, balsami, molto siliconici, molto, chimici, chimici, tutto è chimica, vabbè, insomma, non so se mi sono fatta capire, però, è molto, denso, come, come gel, un gel, veramente, un gel olio, molto, molto denso, che serviva, per fare i messaggi, ai bambini, per, per ammorbidire la pelle, dei bambini, piccoli, eh, ha avuto un incontro, scontro, con mia figlia, che lo ha, massacrato, eh, in realtà, ce n'è rimasto un po', forse, dovrei, insomma, dovrei, continuare a utilizzarlo, è un balsamo, che può fungere, sia da barriera, sia da emolliente, molto forte, per esempio, me lo immagino, utilizzato su delle, su dei gomiti, o delle ginocchia, molto indurite, molto screpolate, rimane un bel po', consistente, sul corpo, sul, sul, si sente un bel po', diciamo, addosso, e infatti, non si, vedete, non si, non si assorbe benissimo, funziona forse anche, sì, esatto, c'avevo degli swatch qui, ha funzionato perfettamente, anche da struccante, non l'ho mai usato, perché non mi azzardo, però, forse potrebbe essere usato, anche in questo senso, e non credo che lo ricomprerò, perché questa consistenza, non mi fa impazzire, però, se avete dei bambini, che hanno una pelle, davvero molto screpolata, davvero molto, messa in cattive condizioni, oppure, se avete una pelle, che va ammorbidita, per esempio, quando sono molto piccoli, hanno la crosta latte, ancora la crosta latte, e questo tipo di prodotti, questo tipo di prodotto, va molto bene, non ha un profumo, purtroppo buono, va sui bambini, e quindi, forse hanno preferito, non mettercelo, però, devo dire, che di solito, invece, i prodotti di Mustela, hanno un profumino delizioso, che poi, è il motivo, per cui, spesso ho comprato, i prodotti, diciamo, idratanti, e le creme corpo, le creme viso, per bambini, di Mustela, invece, questo, no, non ce l'ha, questa cosa, però, appunto, per, in caso di, di, problemi, tra virgolette, parliamo sempre di problemi, non di problemi clinici, diciamo, ma di, appunto, di particolare secchezza, della pelle dei bambini, quello va, va molto bene, a proposito di bambini, ho poi finito, anche, ben due, di questi, che vedete ciclicamente, in questo video, dei finiti, che sono, le creme, le pomate, prima pelle, 30%, di latte e luna, queste, io le uso, come crema, cambio pannolino, è mia figlia piccola, ancora il pannolino, e quindi, io queste le uso, molto volentieri, e in questo modo qui, sono, miracolose, quando c'è un arrossamento, anche, forte, perché magari, è rimasto, per qualche motivo, il pannolino sporco, addosso, troppo tempo, oppure, anche, punture di zanzare, piccole, brociature, anche, per noi, io lo uso, cioè, ho mai più senza, e credo che, quando mia figlia, toglierà il pannolino, comunque, continuerò a comprarlo, perché, veramente, è comodo, è comodo avere a casa, una pomata, così tanto, lenitiva, cioè, veramente, molto, lenitiva, sulla pelle, io, la compro, la ricompro, la regalo, tutte le volte che ho modo, perché, mi piace veramente tanto, un altro prodotto, che mi è piaciuto tanto, è questa qui, questa ampoule, anche questa, era nel calendario dell'avvento, che abbiamo omaggiato, Stylevana, e, devo dire che, quando Stylevana, fa questi, questo tipo di, di, box, oppure, appunto, il calendario dell'avvento, ci mette sempre dentro, dei prodotti, che veramente, sono ottimi, quindi, se vi capita di, di voler acquistare, su Stylevana, io vi consiglio, di guardare anche, le box, ci sono, poi, quasi sempre, degli sconti, e, quando ci sono, gli sconti sul sito, spesso, sono più convenienti, gli sconti, o i codici, che vi danno loro, che non quelli, di noi influencer, compreso il mio, però, devo dire che, hanno dei prodotti, che a volte, sono veramente buoni, su dei prezzi, diciamo, con dei prezzi, che già sono concorrenziali, ma poi, appunto, hanno anche, sempre, sempre, degli sconti, da applicare, e, comunque, questo qui, è, Bifida Biome Complex, Ampoule, Intensive Recovery, di Manio, e, questa, insieme a tutti i prodotti, con retinolo, insieme agli esfolianti, insieme ai prodotti, lenitivi, secondo me, è un'altra delle cose, che ha fatto molto bene, alla mia pelle, in questo periodo, perché era veramente, molto lenitiva, questo applicatore, molto comodo, che prelevava, molto bene il prodotto, la alternavo, a quella, già me la sono persa, al, a questo qui, al Riddle Shot, oppure, la abbinavo, oppure la usavo, alternativamente, in base a quanta, necessità di, idratazione, aveva la mia pelle, e di cura, la mia pelle, mi ci sono trovata, benissimo, veramente un bel prodotto, carino, come prodotto, anche questo, contorno occhi, di Nakomi, poi io, mi metto, finiscono, poi invece, quando vengo qua, sarà che stanno fermi, per tanto tempo, ma poi esce, sempre anche, l'ultima, goccina, è un bel, contorno occhi, di Nakomi, alla caffeina, questo, io lo usavo, di mattina, carino, non, eccessivamente, idratante, ma neanche, non idratante, una buona via di mezzo, la caffeina, dovrebbe, avere effetto, decongestionante, quindi, sul contorno occhi, ha un buon effetto, io devo dire, che con i prodotti, Nakomi, raramente, mi sono trovata male, hanno secondo me, delle chicche, davvero carine, e devo dire, questo non fa eccezione, è un buon contorno occhi, 15 ml, se non ricordo male, è anche un prezzo, accettabile, di solito, i prodotti Nakomi, ce l'hanno quasi sempre, l'ultima cosa, che vi faccio vedere, è un prodotto, che in realtà, io non faccio quasi mai vedere, perché non è un prodotto, che a casa mia, si usa moltissimo, ed è una candela, e questa, in particolare, è di Molton Brown, mi è stata regalata, è la candela, arancia e bergamotto, scusate, è molto vissuta, come boccia, mi è piaciuta molto, ovviamente, come dice il nome, arancia e bergamotto, è profumo fresco, aglumato, mi piaceva molto, per rinfrescare gli ambienti, per esempio, in cucina, magari, quando cucinate, per tanto tempo, delle cose molto, odorose, mi piaceva usare questa, per rinfrescarla un po', io, non le uso di solito, io non le uso di solito, le candele, però, in questi casi, mi piace averne una, a disposizione, devo dire, che questa aveva una buona, insomma, si diffondeva il giusto, non mi piace avere, cose che si diffondano troppo, nell'ambiente, però questa, aveva abbastanza forza, da rinfrescarmi la cucina, la mia cucina, è un open space, quindi è unita, diciamo, sono due, il salotto e la cucina, sono due, sono, come dire, si guardano, però non c'è una porta di mezzo, quindi, riuscivo comunque, a rinfrescare un po', questo, questo ambiente molto grande, molto grande, insomma, un po' più grande, senza dover, senza sentire questo, troppo, questo profumo, forte, l'unica cosa che segnalo, è che, la candela, non si accende più, però, come vedete, qui ne è rimasta un bel po', ora, io non sono, appunto, non sono una, che è molto brava con le candele, quindi, non mi sono messa, a cercare di recuperare, il, il fondo, della, della candela, però, come vedete, non è pochissimo, quello che, che rimane, che non si usa, non si utilizza più, non si riesce più, ad utilizzare, se voi siete brave, magari riuscite a recuperare, io so che se lo mettete in congelatore, riuscite a riprendere le cose, però, non c'ho sbatti di farla sta cosa, questo era un regalo, è stato un regalo molto gradito, e, e io l'ho, l'avrò usata, l'avrò finita in un anno, sì, me l'hanno regalata, se non mi sbaglio, a Natale, non scorso, quello precedente, e quindi, ci ho messo questo tempo, a finirla, per farvi capire, quanto, la usi, in realtà, si brucia, non si brucia, velocissimamente, però, insomma, io pure, ci ho messo del mio, diciamo, a non, a non finirla, molto rapidamente, però, il profumo, mi piace, perché è abbastanza fresco, un pochino dolcino, cioè, non è un aggrumato, troppo aspro, e quindi, c'è sempre comunque, un leggera, una leggera, dolcezza di fondo, che, non mi dispiace, in questo tipo di prodotti, e, questi erano tutti, i prodotti finiti, di questi due mesi, in realtà, degli ultimi due mesi, e, devo dire, molti prodotti, che mi sono piaciuti molto, oh, non so come fare, quest'anno, perché l'anno scorso, mi erano tenuto, a tutti i prodotti finiti, con l'idea, che al fine dell'anno, vi potessi fare, vi avrei potuto fare, un, 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 best, dei finiti, l'avevo fatto l'anno precedente, poi in realtà, non l'ho fatto, c'ho ancora tutti, i finiti, dell'anno scorso, e adesso, non so che farci, e, e quindi, non so nemmeno, come, come, conservare, questi tanti prodotti buoni, che ho finito, questo periodo, adesso ci dovrò, dovrò capire, ma, se avete, idee, suggerimenti, ditemelo nei commenti, anche se non so, se, riuscirò a tenermi, tutto sto casino, in giro, prima di, che questo video, vada online, però voi comunque, provate a dirmelo, comunque, se avete provato, qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere, come vi ci siete trovati, nei commenti, se il video vi è piaciuto, mettete un like, se io vi sto simpatica, iscrivetevi al canale, e se vi va, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao, Grazie a tutti